Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Ina 11, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fibili per intervento di ripristino, frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare. Per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Il raccordo Siena-Firenze è scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Papana e Ponte della Venturina a causa di una frana. La viabilità cittadina a Firenze è restringimenti di carreggiata in Viale dei Mille per lavori di riqualificazione semaforica all'incrocio con via Pacinotti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.